Dopo il bando di mobilità esterna per l'individuazione dei dirigenti dei settori affari generali ed economico-finanziario in scadenza a lunedì 28 dicembre, l'amministrazione comunale di Nocere Inferiore cerca anche due dirigenti tecnici. In questo caso non si tratta di un avviso di mobilità, ma di incarichi a tempo determinato che scadranno alla fine del mandato del sindaco Malleo Torquato, ovvero nella primavera 2017. Quattro importanti poltrone al momento nelle mani di tre dirigenti, Maria Carmela Bracciale, Luigi Canale e Mario Prisco. Il decreto di nomina Bracciale fu firmato il 27 dicembre 2012. L'influente dirigente gestiva però i cordoni della borsa comunale da prima dell'avvento di Torquato, ovvero da quando Antonio Romano le assegnò il coordinamento del settore nel settembre 2003. Sono datate sempre il 27 dicembre 2012 anche le altre nomine dirigenziali. Se per il bando per la possibile sostituzione di Antonietta Manzo alla guida delle politiche sociali se ne riparlerà tra qualche settimana, ci sono già i due avvisi che interessano gli ingegneri Canale e Prisco. In questo caso le domande potranno essere presentate entro il 4 gennaio. Abbiamo rispettato le funzioni dirigenziali interne del Comune con un enorme risparmio. Adesso ci avviamo al meccanismo di rotazione, in parte in ragione dei prepensionamenti e in parte perché avevamo programmato la scadenza al triennio, quindi prima della conclusione dell'azione dell'amministrazione. I bandi sono bandi aperti, quindi il principio che riguarda i due settori, affari generali ed economico finanziario, è quello di un avviso di mobilità che scade il 28 e poi alla scadenza del 28 se la mobilità non ha risposta si procede ad un bando pubblico ordinario. Per quanto riguarda i settori tecnici invece c'è un bando a termine, sono figure contrattuali esterne, c'è contrattualizzazione esterna con la possibilità anche dei dirigenti interni ovviamente di partecipare a pieno titolo, quindi secondo i criteri che prevede la legge. E i tempi per avere i nuovi dirigenti? Ma i tempi non saranno rapidissimi per quanto riguarda, immaginiamo, gli affari generali, inseriremo anche quello delle politiche sociali sulla programmazione della nuova annualità. Per quanto riguarda il settore economico finanziario, ovviamente dovremo attivare, in attesa dell'espletamento del bando di concorso ordinario, un criterio di supplenza, se non si avrà risposta col bando di mobilità, per quello dei settori tecnici, o almeno di uno dei due settori tecnici, immaginiamo che i tempi siano tutto sommato abbastanza rapidi per la metà del mese di gennaio.